Gli strumenti di regolamento Le banche e il sistema finanziario Quali funzioni hanno le banche nell'ambito del sistema finanziario? Gli strumenti di regolamento sono le modalità con cui viene regolato il pagamento di un bene o servizio. In passato, gli scambi commerciali venivano regolati ricorrendo alla moneta legale, ovvero banconote e monete metalliche. Oggi si utilizza la moneta bancaria, costituita da assegni, bonifici, carte, ricevute bancarie e altre forme di pagamento elettronico. Le principali ragioni di questo cambiamento sono Evitare il rischio di smarrimento o furto portando con sé denaro contante Poter effettuare pagamenti e gestire incassi ovunque ci si trovi e in qualunque momento Garantire la tracciabilità dei pagamenti per contrastare l'evasione fiscale Rispettare le previsioni di legge che vietano pagamenti incontanti per importi superiori a 5.000 euro Le banche sono le protagoniste del sistema finanziario. Cioè dei movimenti di capitali tra diversi soggetti economici, imprese, famiglie e Stato. Le principali funzioni delle banche sono La creazione di moneta bancaria L'intermediazione creditizia L'offerta di servizi La creazione di moneta bancaria può essere Cartacea, come gli assegni bancari e gli assegni circolari Elettronica, come i bonifici, le carte, di credito, di debito, prepagate E le riba, ricevute bancarie L'intermediazione creditizia è costituita da operazioni di raccolta fondi dai soggetti in surplus finanziario Cioè coloro che risparmiano E operazioni di impiego fondi ai soggetti in deficit finanziario Cioè coloro che hanno necessità di denaro L'offerta di servizi ai propri clienti Cioè imprese e famiglie titolari di conto corrente Come per esempio Domiciliazione di utenze Accredito stipendio Consulenze bancarie E così via La banca svolge la funzione di intermediario creditizio Quando I soggetti in surplus finanziario In genere le famiglie Che risparmiano una parte delle loro entrate Depositano i propri risparmi presso la banca Per ottenere un interesse Utilizzando i risparmi così raccolti La banca concede finanziamenti ai soggetti in deficit finanziario In genere le imprese Che hanno necessità di investire somme di denaro Superiori al proprio reddito La banca incassa gli interessi sui finanziamenti Che cos'è il conto corrente bancario? Il conto corrente è un deposito a vista Che permette al cliente di utilizzare strumenti di pagamento bancari E di fruire di numerosi servizi bancari Per aprire un conto corrente Occorre Identificazione dell'intestatario Sottoscrizione del contratto in duplice copia Deposito della firma autografa Effettuazione della prima operazione Rilascio del libretto assegni Se richiesto dal cliente Sottoscrizione di eventuali contratti integrativi Consegna al cliente della documentazione prevista per legge Il conto corrente bancario Viene oggi sempre più frequentemente gestito con loan banking Attraverso il collegamento a Internet al sito della banca Ogni conto corrente è individuato da un codice IBAN International Bank Account Number Composto da 27 caratteri alfanumerici Alcuni di questi caratteri Identificano la banca e la filiale Presso cui è aperto il conto corrente E numero di conto corrente stesso Il saldo del conto corrente È la somma disponibile sul conto corrente Per il suo calcolo occorre tenere conto Delle diverse operazioni di prelevamento e versamento Che vengono compiute Il saldo si calcola sommando al versamento iniziale I versamenti effettuati successivamente al netto dei prelevamenti I versamenti generano un accredito Ovvero un aumento del saldo del conto corrente Hanno segno più I prelevamenti generano un addebito Ovvero una diminuzione del saldo del conto corrente Hanno segno meno Vediamo insieme un esempio Il 12 agosto la Powersport apre un conto corrente bancario Con un versamento iniziale di 8.000 euro Nei mesi successivi compie le seguenti operazioni 20 settembre Versamento di 5.000 euro 12 ottobre Prelevamento di 7.000 euro 14 novembre Prelevamento di 2.000 euro 31 dicembre Versamento 5.000 euro Determiniamo l'andamento del saldo del conto corrente nel periodo considerato Per calcolare i saldi dei periodi successivi È necessario sommare l'importo del versamento O sottrarre l'importo del prelevamento Ad esempio Il saldo al 20 settembre Si ottiene sommando al saldo al 12 agosto L'importo del versamento del 20 settembre Procedendo nello stesso modo per le date successive Si ottiene un saldo di 9.000 euro a fine dicembre Riepilogando Gli strumenti di regolamento sono le modalità con cui viene regolato il pagamento di un bene o servizio La moneta legale, banconote e monete metalliche, è sempre più spesso sostituita dalla moneta bancaria Assegni, bonifici, carte, ricevute bancarie, ecc. Le principali funzioni delle banche sono La creazione di moneta bancaria L'intermediazione creditizia L'offerta di servizi Il conto corrente è un deposito a vista che permette al cliente di utilizzare strumenti di pagamento bancari e di fruire di numerosi servizi bancari oltre a percepire interessi maturati sulle somme depositate Ogni conto corrente è individuato da un codice IBAN composto da 27 caratteri alfanumerici Grazie a tutti i nostri spettatori